Musica Beh, il nostro primo giro all'interno del televisore l'abbiamo fatto Stanotte piove potrebbe apparire qualcosa in tv Dovresti tornare in camera tua e controllare la tv senza il singhiozzo possibilmente Guarda la tv nella tua stanza Stanotte piove Apparirà qualcosa in tv Boh, ma c'è il calendario con persona 3 dietro Ma dai Spegni il televisore, bravo Dovresti spegnere anche la luce mi sa Ok E una nuova figura viene mostrata Ecco il nuovo, di nuovo con l'immagine A quanto pare se le condizioni sono quelle esatte è possibile vederla ogni volta che si vuole Mmm Quindi deve piovere per forza E' apparsa una sagoma Sembra se una donna indossa il kimono Dai, no, la nostra compagna di classe E' così sfogata che non riesci a capire di chi si tratta Ragazza col kimono, si vede che c'ha il taglio lungo Succederebbe se toccassi l'immagine del canale di mezzanotte Riusciresti a toccare la persona che vedi nello schermo Provaci Dai, è la nostra compagna di classe Palesemente L'immagine è scomparsa Mmm E' strano che solo noi abbiamo questo potere però Cioè o meglio A parte noi e anche chi sta facendo questi casini a quanto pare Decidi di andare a letto Perché Yosuke non ce l'ha ancora questo potere Deduco Ehi Igor Ciao Questo è Yokoso Quindi sto riposando L'importante è quello Grazie Igor A quanto pare sei stato evocato nella stanza di velluto A me Più che una stanza sembra una macchina però Ok Esatto Esatto Ci siamo risvegliati Che cosa mi doni Igor? Una carta? A quanto pare La chiave di velluto Ok E quello era palese Però Ovvio E fin là Non c'era nessun tipo di dubbio Igor Checco Checco Esatto Ok Non è il nostro spirito di ribellione ovviamente Sono cose diverse Strano che abbia detto Jolly e non il matto Vuoto Perché speciale fino a là Ok ma vuoto Ok Grazie Controlla il proprio cuore Ok In pratica mi stai dicendo Porta al massimo alcuni confident Per arrivare alla fine del gioco Ma più che altro Non capisco perché usano Il termine Jolly Invece che matto O folle anche Gocchi che io Gocchi che io Non capisco perché usano Il termine Jolly Che sì È giusto anche quello Però La carta del tarocco giusta È quella del matto Colui che inizia il viaggio La carta numero zero Tra l'altro Se non ricordo male Ed eccolo lì La bypass Finto adidas Certo che l'ho fatto Ne dubito Anzi ci dirà Perché siete tornati qui ancora Dubito che chiunque Si è stato tirato Se riusciamo a salvarlo Sappia chi sia il colpevole Comunque Esatto Mi piace la risolutezza di Yosuke Mi sembrano anche più giovani Rispetto ai personaggi Persona 5 Loro Poi in realtà Sono i modelli Che li fanno sembrare Molto più giovani Però abbiamo visto Che nel modello video Anche loro Saranno dei 17 anni 16 anni 16-17 E qua ho paura Cioè che in realtà Dire mettiamo fine a tutto questo Sia considerato Sbagliato Nel senso Mettiamo fine a tutto questo Nel senso Smettiamo di farlo noi Quindi punterò la più ovvia Dobbiamo farlo noi Non vorrei che venisse inteso Nel modo sbagliato Ah ecco vedi Stavo giusto dicendo Anche lui adesso ha il potere Perché E' affinato con la sua persona Ora Esatto Persona Non proprio Diciamo che Hai risolto i problemi Con te stesso In quel mondo Fine Ma io ti supererò Io capisco che per lui adesso È una cosa personale Anche in mezzo a tutti questi misteri Incertezze Yosuke Ce la sta mettendo tutta Per andare avanti Hai ottenuto un nuovo contratto Avverto un lieve moto D'amicizia Tra i Yosuke Non sapevo La sua carta è quella del Io sono te Tu sei me Ehi Staurato un nuovo legame Ti condurrà più vicino alla verità Sarai benedetto Quando creerai persone Dell'arcano Il mago Ok Quindi lui è l'arcano Di Morgana Non è male però Mentre formi un legame Con Yosuke Avverti di rafforzarti Il potere del tuo cuore Ricordi le parole di Igor Quindi più legami abbiamo Più di alto livello Più potenti saranno Igor si riferiva a questo legame Con Yosuke Probabilmente Ha instaurato l'affinità sociale Yosuke Anamura Con l'arcano del mago La determinazione Di battaglia di Yosuke Si è rafforzata Ora Yosuke Può ridestare un alleato Atterrato in battaglia Il tuo alleato Potrebbe aiutare qualcuno Che è stato atterrato A rialzarsi Potrebbe Mi chiedo se Come persona 5 Alcuni ranghi Di tutti quanti Compegno Saranno uguali Cioè tipo Tutti potranno Rialzare qualcuno Tutti Avranno delle resistenze Sono preoccupata per lei Voglio venire con voi Qualcuno di intelligente Esiste allora Sono preoccupata per lei Quindi stanno cercando Hai aggiornato Cio di ciò Che avete scoperto Dell'altro mondo Cercherò di fare fuori Tutti quelli che sono Collegati in questo momento Molto probabile Niente non risponde Ovviamente Ehm Ne dubito Certo ci è Certo ci è Certo ci è Viste tutto a posto Certo ci è Grazie Io e che c'entro Ma poi l'hai pensato anche tu Cie Sei stata tu la predi e penso di aver visto lei Ma forse uccidendo La persona che è nel televisore uccide anche quella vera Come succedeva alle ombre in Persona 5 Non è detto Potrebbe benissimo essere Però questo lo spiegherebbe perché poi vengono appesi Ha raccontato il modo dettagliato che è successo la scorsa notte Sì ma c'è gente Yosuke Ebbè chi l'avrebbe fatto Che culo Entrate in un altro televisore Può essere Hai provato a chiamare Teddy Come con la mano Sei stato morso da qualcosa Sto bene passerà sto per mettermi a piange Passerà Quello stupido orso No idiota Lui è inutile rispetto a Morgana Morgana sentiva le cose perlomeno Io penso che tu sei un idiota Punto Sei vestito come un pirla tra l'altro Te lo aggiungo io E' vero il nostro primo weekend E oggi è sabato E' vero Quindi è la prima settimana che stiamo a casa Può essere Tu e Yosuke vi siete scambiati i numeri di telefono E io e Cie no Già che siamo qui Metti che serve Tu no Non lo vuoi il mio numero Cie Che fosse proprio Yuki con la ragazza apparsa ieri Palesemente Questa notte dovrei controllare di nuovo il canale di mezzanotte Figa Kimono Ragazza con il taglio qui Palesemente Eh esatto Grazie Dojima Omicidi seriali Si chiamano proprio per quello così Triangolo Ah il certo Un genio Ma 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 Il Si 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 E perchè grazie? Non è stato nessuno nel mondo reale. E beh, quando fai uno scandalo del genere è palese che succede. Non è vero. La morte del genere è una volta che fu fuori nel mondo. E per esempio, la morte del genere è un po' che vuole vedere. Però è sicuro che l'abbiano uccisa perchè è collegata. La morte del genere è la morte del genere della morte del genere. Ma non si tratta di più. 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 Ecco. Vediamo le notizie. Cosa? Ovviamente. Non l'hai sentito i telegiornali? Ok. Entro. Non è vero. 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 Esatto. Che è quello che dico anch'io. L'ha uccisa perchè potrebbe sapere qualcosa. Ma non è vero. 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 Ovviamente. Come in Amizawa. Uguale. Guardate i gurashi ragazzi. E penserete le stesse cose che sto pensando io. Davvero. Ben tornato. Pensavi che fossi tuo padre? No. Strano. Almeno mi hai riconosciuto. Posso fare qualcosa? Che palle. Io vorrei preparare qualcosa. Sei qualcosa di tuo padre tu? Tu. Ah. Dobbiamo rispondere noi al... È probabile. Forse c'è un quiz televisivo. Sembra presa dal quiz in tv. Dovresti lasciarla in pace. Ah. Ok. Pensavo che fosse come presa una cinque che se rispondi al quiz. Poi ti aumenta un po' la conoscenza. Eh. Un po' ci ho sperato. Va bene. Saliamo di sopra. Dovresti guardare il canale di mezzanotte anche oggi. Tanto. È di storia che oggi piova di nuovo. Palesemente. Stanotte piove. Apparirà qualcosa in tv? Ci sono... Ci saranno probabilmente delle giornate in cui anche se piove non appare nessuno. Secondo me. Secondo me. Ma... Ma... Dove si è toccata? Una Rem di fusti. Cioè questo è quello che pensa veramente Lei vuole Non c'è dubbio Quello sul canale di mezzanotte era proprio Yukiko Ehi l'hai vista anche tu Che bel vestitino Grazie Yosuke Low budget Calma ti provo a contattare Yukiko Prova a contattare Cie Prova a contattare Cie Ok è la prima domenica La saltiamo Hai permesso Yosuke che vi vedrete domani Hai deciso di andare a letto presto Beh è già mezzanotte Presto è relativo in realtà A questo punto Noi come siamo fighi Vestiti casual Total black Ciao Papà niente ancora tornato Poi che ci sia solo Nanako Ti sei alzata presto oggi Va bene Se uscirai Nanako rimarrà tutta da sola a dare la casa D'altro canto però hai delle cose importanti da fare con Yosuke oggi Esatto Ho la mia televisione Questa povera ragazza è troppo da sola Cioè nel senso È attaccata la tv Palesemente Ma è perché è sempre da sola Quindi la capisco anche in parte D'altro canto Probabilmente ci sarà Qualche missione con lei anche Come ce le ha le braccia questo Cos'è quella roba Mettile via Pazzo Pazzo mettile via La katana palesemente Eh grazie Tu si potresti Io direi due coltelli Però la katana dalla me è scemo Ehi che fai con quella roba Che stai facendo Ma dai sono finte Sono finte Questo è scemo però Sei stato postato in stazione di polizia Insieme a Yosuke Ma dai Neanche una settimana qua Già siamo nei guai Che bello Infatti è colpa sua Eh esatto Le vostre armi sono state confiscate Perché sei un genio E abbiamo ricevuto informazioni Ottimo Sì certo Vai tranquillo Non ci sarà un altro idiota Con le armi così Che le sventola davanti alla faccia Della gente Un cretino Tra l'altro La voce giapponese A me ricorda La voce di Di un attore americano Informazioni riservate Esatto Ottimo Palesemente Solo che dobbiamo impedirlo Lì tra l'altro Stavo guardando un attimo Stavo guardando un attimo I cartelloni Che ci sono Lì di lato So che adesso sono coperti Dalle scritte Ma c'è una mascotte Molto simile a Teddy Però in formato Penso foca Foca e ghepardo Perché c'ha Le zampe da foca Però i colori sono Quelli di un ghepardo O forse solo arancione È particolare O forse è un pesce Però Forse è un pesce gatto Ahà Dio mio No no tranquillo Sappiamo nulla Adachi Adachi Bugaiciato Tachibana Sì Cofì Eccolo che arriva S-s-sunmose Ima Icchiamo È uno stagista Certo grazie Quindi Teddy potrebbe davvero Essere una mascotte Di un programma televisivo Che carina Come vestita Carucetta A parte il giubbino verde Per il resto Carina ci è Certo che lo sappiamo Vai tranquilla Che la recuperiamo Ne dubito I suoi genitori Non saprebbero nulla Ma poi perché dovrebbe Sistare una ragazzina Eh grazie Sono entrambi molto nervosi E beh Non perdiamo la calma Forza Entriamo nel televisore Va bene Puoi venire Sentiamo Vediamo il posto che dove ci porta Ho fatto un negozio Di armi finte Lo sapevo Dio mio 6.000 yen Per una Per un'ascia Minchia Cos'è la forgia La forgia di Sauron Questa Però aspetta I prezzi mi sembrano Un po' bassi O sbaglio Scusami 6.000 yen Alexa Quanti euro Sono 6.000 yen 42 euro Che anche per una Riproduzione Mi sembra un po' poco Sono fatte Mi sembrano fatte bene Esatto E sei venuta qua Ma sono veri Sono finte Dio mio Ma l'armaiolo Dice nulla E nessuno ti dice nulla Puoi venire tranquillamente Anche se Capiamoci Ok Ma resti dietro di noi Però Certo C'è come no Avendo visto i film Ha imparato a combattere Questa Te lasceremo Lì a morire Voglio questa armatura E l'armaiolo E l'armaiolo Intanto lì che ascolta Non so di cosa parla Certo Certo Dammi un po' di soldi E io te la prendo Sì ma anche per te Scemo Ricevi 5.000 yen Da Yosuke Cos'è comprato C'è Ma va Finalmente qualcuno Tu hai L'inventario E va bene Ci sta Però Dove cazzo la mette Yosuke ogni volta La katana Cioè in teoria C'è scritto Che quando compri Le armi Che non sono affilate Sono solo riproduzioni Tu quando entri Nel mondo cognitivo Diventano vere Perché la tua immaginazione Pensano che siano vere E fin là Non c'è nulla da dire Il punto è Va bene tutto Ma quelle riproduzioni Nella realtà Hanno comunque La loro vera dimensione Capisco la pistola Capisco ancora ancora Il fucile d'assalto Sai Ti porti Il borsone Nessuno lo nota Ma una katana L'ascia Tutte quelle cose lì Almeno loro Si stanno davvero Ponendo la domanda Come le facciamo A portare fino a là Ha un senso logico Non sta dicendo Comprami qualcosa E poi ci andiamo Esatto Ma in realtà no Però Siamo tre ragazzi Siamo tre ragazzi Non c'è nulla di sospetto Se vedi tre ragazzi Che girano assieme Se qui per i miei capolavori Da pure un'occhiata Con comodo Interessante Acquista arma matura Acquista accessorio Fascia per capelli E amuleto Aumenta la forza di uno E la resistenza Ok per adesso E ok Vuoi equipaggiarlo E ok vuoi equipaggiarlo Certo Vuoi vendere l'oggetto Chiavi inglese Ma per il momento no Anzi aspetta Scusami Mi ha fatto vedere Già in anticipo Quanto ci facevo 480 Non lo so Vorrei tenerle da parte Tutte le cose Però effettivamente Siamo all'inizio Forse Mi conviene anche Vendere le cose Che non utilizziamo Dobbiamo recuperare Un po' ovviamente Tutto quello Che spendiamo La cotta di maglia Tu hai 34 Mentre Yusuke Perché dico Yusuke 34 anche lui Ne acquisterai una Per il momento Poi ce la passiamo Fra di noi Quindi vediamo Vediamo quando serve Pensavo che la signora Si sarebbe fermata Per qualche motivo Oh Ma guarda un po' C'è una porta Molto strana Davanti a te Pare che gli altri Non possono vedere La porta Palesemente Alla stanza di Velluto Certo Igor La chiave di Velluto Ti tiene in tasca Inizia a brillare Ma è una chiave fisica O solo mentale Vorrei capirlo Perché molti oggetti Infettivamente Che ti danno In queste zoe Oh Ciao Noi ci siamo già visti Mi spieghi Chi è la ragazza Vicino a te Igor Per favore Per favore Per favore Per favore Per favore E fino a là Che culo Già la possibilità Di fondere Sai cosa Qua è già tutto Più veloce Qua è già tutto Molto più veloce Ok Quindi dobbiamo Raccoglierle Ricordi Di avere creato L'affinità sociale Il mago Con Yusuke Quando Perché dico Yusuke L'arcano del mago Tramite la fusione Con la persona Otterrà un potere Ancora maggiore E fin là Pagando Perché al momento Sono a corto di denaro Eh esatto Spiegami chi è Che è quello Che mi importa Ragazza dall'aria Scostante Che carina Che già l'abbiamo vista Sembra poco amichevole Hai la sensazione Di averla già incontrata Da qualche parte Come stavo dicendo Qua mi sembra Tutto abbastanza veloce Abbiamo fatto adesso Quattro episodi Da Fino adesso Fino esatto questo momento Per me 40 minuti l'uno E già siamo Presentati Al primo Probabilmente Castello Dungeon Programma televisivo Come vuoi chiamarlo Lo chiami E ci già presentano Le fusioni Fra le persone Mentre se non ricordo male Per arrivare già Alla fusione In persona 5 Ci vogliono Un bel po' di ore Se non ricordo male Almeno al quarto Quinto episodio È successo Comunque ci siamo Già incontrati Grazie Marie Che caruccia però Lei è molto più simile a Morgana Di quanto lo sia Teddy Perché lei dice La sua anima è ancora molto giovane Questo vuol dire che lei è un prodotto Della Velvet Room Tra l'altro c'ha anche la V Mi chiedo se c'era già anche Al primo incontro E non ci ho fatto caso Però Lei è un prodotto Della Velvet Room È un essere creato Guarda che non è una cosa così stupida Eh esatto È un saggista pure lei Ho capito Quindi è come le carte abilità Che facevano fare a Yusuke davvero Esterlo Ma quindi posso già usare i servizi Esatto E fino a là ci siamo Anche non risolvere il caso Non è tanto facile in realtà Grazie Igor E finalmente avremo un po' di free roaming Finalmente possiamo girare dove vogliamo Ah proprio così mi caccia via Cioè neanche il tempo di provare a fare una fusione Vabbè che abbiamo Una sola persona ad ora Abbiamo solo i zanaghi Quindi penso di poter fare Poco e nulla Però Ho notato ieri una cosa Montando il video Che ci sono molte meno resistenze Abbiamo solo L'attacco fisico E vabbè quindi non ci sono Gli attacchi a distanza Fuoco Ghiaccio Elettrico Vento Credo sia luce E credo che l'ultimo sia oscurità Ma non ne sono sicuro di questi due Credo Che il penultimo sia luce L'ultimo non è detto che sia l'oscurità Però Ah aspetta Possiamo ottenere 6 persone Probabilmente fino ad ora Probabilmente arriverà fino Alla fine della scritta Dove c'è scritto quale persona vuoi segnare Saranno all'incirca 12 Però Per il momento solo 6 Ma quindi Se entro posso fare qualcosa Non è motivo di entrare Grazie Vabbè salviamo allora Ma invece gli altri negozi Per il momento Non posso ancora visitarli Questo è il negozio di alcolici Dell'altra volta Ah Signora Ah benvenuto Con che faccia me lo sta dicendo 100 HP a tutti gli alleati E 100 HP a un solo alleato 250 yen Non è neanche un prezzo così terribile Mi sembra che 100 HP Sia Un buon compromesso Già all'inizio del gioco Per tutti Tra l'altro Che se non ricordo male In Persona 5 I primi Oggetti curativi Non davano così tanto A proposito Ah non posso entrare Volevo chiedere appunto Del part time Ma Immagino Che lo potrò fare Solo più avanti Vuoi andare a Junes? Certo Mi aspettate da molto? Eh esatto Era tanto meglio se vi vestivate normali Era meglio per voi se non venivate Credimi Cioè se non vi vestivate così Scusami Stavo pensando a C che non doveva venire Ma Sbagliato Pensavo ai vestiti Ciao Kuma No Sembri proprio un pirla Invece Pare che sia rimasto Qui a riflette Tutto questo tempo Per cosa? Dio mio Giochi di parole Con orso però No ti odio Teddy Io ti butterei di sotto Ti giuro Ah è vero però Lei non ha ancora gli occhiali Gli dai di gli occhiali anche a lei Per favore Signorina E che ne so io Eh esatto Dove c'era il castello che abbiamo visto in tv Ti prego Kuma abbassa quel braccio che qua suona male Esatto È il castello di prima Però Vedi qua non ha molto senso questa cosa Perché da un televisione puoi arrivare ovunque Un po' ha senso perché sono tutti collegati Però è molto facilitato Mentre in persona 5 dovevi andare Trovare Trovare il modo per entrare Quello aveva un senso molto più Più espanso a parer mio Tu sei un prodotto televisivo Sì perché è il mondo della tv A un punto Eh esatto È come a noi se un alieno ci iniziasse a spiegare di Cose aliene e noi non lo capiamo Ma per lui è normale Un bello stellone In realtà magari lo pensa e odia vivere in campagna Tipo Rika Ok Ok Molto probabilmente Tranquilla che non sei l'unica Cie Tu dovresti stare ferma Perché non ti sei difendere E' deficiente Ah di nuovo Han che va in giro da sola E si mette nei casini Fino a che non trova la sua stessa ombra E attiverà la sua persona E corsa via da sola Ci sono un sacco di ombre nel castello E' un posto pericoloso per una ragazza sola soletta Ma stiamo scherzando Perché non ce l'hai detto prima Forza troviamo Cie Ma io posso salvare Ecco prendi questo Oh perlina rigenerante Oh e anche questo Gli ho raccolti tutti da solo Sono solo per te sensei Nocciolo di pesca e goccia dell'anima Beh ciao ciao Grazie Si mette male sta Dobbiamo seguire subito Cie Ma io posso salvare? Cioè se faccio il salvataggio rapido Mi fa uscire dal gioco Ok quindi il salvataggio rapido E' una cosa solo Che puoi fare una volta ogni tanto E non abusarne Grazie a tutti Autore dei sorrisi